Anche io ero come te. Vulnerabile, incerta, spaventata dalla morte. Poi tutto è cambiato. Appena dodici ore fa. Vi prego, io non so niente! Io non ho fatto niente. La supplico, per favore. Abbiamo inserito un pacchetto con qualcosa di molto speciale nel suo stomaco e lei lo trasporterà per noi. Si attenga alle regole e nessuno si farà del male. Non sono dell'umore. Si ritiene che noi usiamo solo il 10% delle nostre capacità cerebrali, ma... Se ci fosse un modo di utilizzare il 100% del nostro cervello... ...cosa saremmo in grado di fare? Sì? Professor Norman, ho letto le sue ricerche sull'uso delle capacità cerebrali. Sono elementari, ma è sulla strada giusta. Grazie. Sono capace di fare cose che non ho mai fatto prima. Io sento... ...tutto. E posso controllare gli elementi intorno a me. È incredibile. Ci dobbiamo incontrare. Mi deve credere. La sostanza chimica le permette di accedere a nuove aree del cervello. Lei ha... ...dei poteri. Non può finire nelle mani sbagliate. È il momento di andare. Signorina, non si muova. Metta le mani in alto, per favore. Le sue capacità cerebrali aumentano ogni minuto. Cosa succede quando raggiunge il 100%? Non ne ho idea. Ma lei è la chiave... ...di tutto. Guido io. Ehi, ehi, ehi! Questa è un'auto della polizia! ... ... ... Grazie a tutti.